La torre Pinelli-Pignatelli venne realizzata nel 1267 sotto il periodo Angioino, all'epoca era contornata da un fossato, come pure tutte le mura cinquecentesche. Un tempo la torre aveva avuto un ruolo di mera difesa passiva, questo è riscontrabile dalle superfici piane dell'intera struttura, poco adatte a resistere all'artiglieria pesante. Nell'ottocento il piano terreno, che anticamente ospitava le carceri, svolse solo funzioni di stalla, come dimostrano le mangiatoie ricavate nella spessa e solida muraglia. Nel piano superiore vi è una grande sala, che costituiva una residenza sicura in caso di assedio. La torre venne restaurata nel 1969 e da quel momento, data la sua centralità nella vita della comunità galatea è diventata la sede della Proloco. dell'intera struttura Niversa struttura Grazie a tutti.